abbastanza giusto che non può parare con dei pezzi deve fare redd8 ma su redd8 cavallo f7 minimo e penso che ci sarebbe stato un matto abbastanza veloce dopo non so anche alfiere f4 scacco donna 5 no i miei pezzi sono sono troppi ok facciamo un'altra partita sfidiamo la gente a 5 minuti e a 10 minuti ok scherzavo giochiamo la inglese ok su questa giochiamo così così siamo rientrati in un attacco panov ok qua questo pedone si poteva anche mangiare però il nero avrebbe avuto un compenso sufficiente decisamente ok qua siamo entrati in un pano proprio puro ok 4 cavallini ora alfiere g4 la mossa più precisa che pareggia più facilmente il gioco per il nero ma anche 6 è ottima forse anche g6 però g6 dovrebbe avere dei problemi ok mangio qua adesso cavallo per donna b3 alfiere per f3 g per f3 e 6 donna per una linea abbastanza nota e abbastanza lunga purtroppo abbastanza patta e va dritta dritta in un finale di torri due torri a testa un alfiere vediamo se lui la conosce qua c'è anche una un'altra deviazione con cavallo b6 però è un po un po minore la mossa giusta è e 6 perché in caso di cavallo b6 ok ovviamente lui ha cambiato in caso di cavallo b6 d5 anche un'alternativa buona per il bianco ok cavallo c3 è uscito la preparazione quindi qua probabilmente è una mossa più forte delle altre allora non so se allora alfiere c4 è una mossa un po più simpatica però non ha molto senso perché e6 semplicemente parla la minaccia e basta alternativamente posso giocare donna per b7 attaccando questo altro cavallo e tanto lui ha due pezzi in presa non li può difendere entrambi però potrei avere altri problemi per esempio donna per b7 cavallo per d4 b per c3 cavallo c2 scacco 3 2 e siamo un po al limite anche qua oppure in alternativa posso semplicemente mangiarmi il cavallo con con il pedone un centro buono il pedone b7 sempre attaccato nella mia posizione penso sia comunque superiore ma andiamo avanti a calcolare questa donna per b7 cavallo per no niente non c'ho voglia mangia il pedone e vediamo adesso le minacce sono molte tra l'altro d5 ci sono sempre questi temi con alfiere b5 scacco lui deve stare attento perché se si prende uno scacco in questa diagonale rischia di dover coprire con la donna che sarebbe effettivamente un problema ok donna b6 vuole cambiare le donne entrare in finale giustamente che anche la struttura migliore ovviamente questo qua questa cosa qua fa schifo però in compenso abbiamo la coppa degli alfieri quindi si può anche fare dai entriamo in questo finalino d5 adesso cambierà le donne al volo proprio sicuramente quindi possiamo anche infatti cavallo e5 dopodiché vabbè questo scacco lo possiamo dare adesso giusto per chiedergli se ha intenzione di arroccare oppure giocare a redd8 se gioco a cavallo d7 beh l'ho risolto ho risolto questo problema del cavallo che mi stava attaccando il pedone in f3 ok re d8 ora devo risolvere questo problema posso per ora posso limitarmi a contrattaccare il suo pedone in a7 in caso di cavallo f3 re e2 e lui dovrà spostare il cavallo e mi mangerò il pedone in a7 ok a6 è una mossa un po' al limite secondo me perché non sta attaccando nulla perché il pedone è inchiodato sulla torre in più si crea anche questa questa piccola debolezza in b6 ok essendo che sono così più attivo di lui lui è in ritardo assurdo di sviluppo posso anche fregarmene di questo pedone se lui decide di mangiarlo perde soltanto dei tempi che deve investire in sviluppo in ricerca e sviluppo giochiamo a torre a4 l'idea di torre a4 è abbastanza da paccaro nel senso che l'idea è giocare alfiere b6 e avere un giorno torre c4 scacco dopo la forzata re c8 esatto cavallo per re e2 vediamo vediamo se va tutto bene cavallo e5 torna a controllare a casa c4 però io ci ho per la seconda volta f4 e quindi adesso immagino che lui debba giocare cavallo d7 esattamente e ok però lui è in ritardo di sviluppo clamoroso io sono in ritardo di tempo clamoroso però ok alfiere d4 impediamogli lo sviluppo dell'alfiere in fianchetto che sta insistendo a fare quella roba lì devo muovermi devo muovermi devo muovermi ok questa g6 sicuramente e ora non sono neanche più sicuro di stare meglio porco cane devo essermi perso qualcosa ok la mia posizione rimane molto attiva però poco tempo sull'orologio 57 secondi e non si vede più un piano chiarissimo ok f5 è brutta secondo me vediamo se giocherà il fiore g7 sul fiore g7 proverò ad attivarmi ancora di più il re rimangiando con il re in d4 nel caso li mangi qua il fiore h6 non mi fa più di tanta paura perché comunque la torre difende a raggi x pedone f4 ok il mio re è ottimo veramente fortissimo in d4 pronto a entrare non appena il cavallo si sposta la mia torre andrà in e1 a fare pressione sul pedone in e7 ok nonostante il pedone in meno comunque la posizione ha del potenziale anche d6 ogni tanto può essere una minaccia ok cavallo f6 penso anche di qua potrebbe essere ah ok vuole mettersi quel cavallo in d6 il cavallo in d6 sta molto bene però deve sempre fare i conti con la mia c5 prima o poi infatti sarà la mia prossima mossa o una delle prossime scacco vengo qua può dare questo scacco qui però ok l'importante è non perdere il pedone in c5 ok provo a venire anche qua con il re ok su questo ricaccio il re indietro e do anche questo scacco adesso rischia di prendersi matto lui questa va bene adesso re c6 sono riuscito a passare con i miei pedoni e ora saranno unstoppable ok d6 posso giocare c7 anche why not e d6 eh sì ti è andata male sto giro ok ora dovrà darmi la torre sul pedone o sulla donna ok e ora è tutto finito vado con il re a dargli matto da questa parte tanto stallo non ci sarà mai anche perché è pieno di pedoni sul lato di di re e ora matto così bene bene ottimo partita sudata a un certo punto sono convinto di aver perso il vantaggio ma lui non è stato abbastanza veloce ad attivarsi con i pezzi soprattutto ok in questa situazione secondo me tipo qua f5 è brutta avrebbe dovuto giocare al fiore g7 cercare di svilupparsi il più possibile e niente ragazzi ci vediamo tra due tre giorni con il prossimo video e ora per continuare che cosa posso fare beh innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni e poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana ci vediamo ciao